La diffusione e la cultura delle tecnologie digitali nelle imprese, nella pubblica amministrazione e fra i cittadini rappresenta una sfida per il Veneto del presente e del futuro. Vi aspettiamo a Padova, lunedì 2 febbraio 2015, a Villa Ottoboni, per una giornata dedicata all'agenda digitale del Veneto. Insieme a tutti noi, Marino Zorzato, Vice Presidente della Regione del Veneto, con Riccardo Luna, Riccardo Donadon, Alessandra Poggiani e tanti altri testimonial per una giornata di discussione, presentazione e ascolto sui temi della crescita digitale in Veneto. Vi aspettiamo. Astag a di Veneto. Qualche anno fa la nostra idea di fare l'agenda digitale era una somma di tasselli, tipo un mosaico, distribuiti sopra il tavolo di cui non si vedeva il disegno. Oggi finalmente abbiamo un disegno dell'agenda digitale del Veneto. Lunedì, in Villa Ottoboni a Padova, presentiamo in una giornata interessantissima questo mosaico. Ci confronteremo col mondo dell'impresa, col mondo dell'università, con gli specialisti di settore. A questa volta cerchiamo da loro contaminazione. Quello che vorremmo da questa giornata è capire, siamo sicuri che molte cose buone sono state fatte, ma capire se il nostro mosaico funziona, se va riadattato, se va sistemato, perché volevamo lasciare a chi arriverà a governare il Veneto dopo di noi una piattaforma digitale su cui lavorare con facilità. Grazie, allora vi aspettiamo per una giornata di discussione, presentazione dedicata all'agenda digitale, lunedì 2 febbraio, Villa Ottoboni, Padova.